Sono ore calde in casa Vellino e non solo climaticamente. Mister Pazienza deve fare i conti con l'emergenza. Se la difesa è il reparto che è maggiormente. Preoccupa il trainer di San Severo nella sfida contro il Potenza. Lunedì sera alle 20.45 appartiene Lombardi perché certi del forfait Cionic e Regione. In attacco i lupi dovranno fare a meno di Bomber Patirno. L'unico reparto dove c'è l'abbondanza della scelta è la mediana ma alcune valutazioni vanno fatte. Davila Stewart si aspettano i referti per valutare l'entità degli infortuni di Jacopo Dalloglio, Sonny D'Angelo, Tiago Cionic, Regione e Raffaele Russo. Un bollettino da codice rosso in vista di un mese di ottobre che vedrà i bianco-verdi impegnati in altre 5 gare di campionato dopo la sconfitta a Messina. Il club sta valutando con attenzione la vicenda legata all'esclusione della lista dei 24 di Federico Casarini. Ieri il debutto è in Coppa ma non è detto che l'ex Bologna e Lanciano possa riprendersi una maglia a discapito proprio di Raffaele Russo che dovrebbe recuperare dal suo infortunio entro la fine del mese di ottobre. Ma il club valuta se schierarlo già da novembre o considerarlo come primo acquisto della campagna invernale di mercato di gennaio. Staremo a vedere ai posteri l'ardua sentenza.